dove ti trovi? ma come mai? diciamo che siamo un po' di movi del brasiliero, però non ho fatto un case guardate là, abbasso abbasso i vizi notici, i famosi vizi nordici i famosi vizi nordici questo è il calendario è il calendario, sì, grande presentazione tutto il mondo, tutto il mondo abbiamo completato il calendario, vedo benissimo il mondo macaco non sai che ci pari, c'era il mondo macaco